7.605 visitatori in 10 giorni. Sono numeri record, quelli relativi alla mostra Il Sogno di Teimer, allestita in due location a retina ed eccezione. La Galleria d'Arte Contemporanea in Piazza San Francesco e la Fortezza Medicea. Questo artista è entrato nel cuore degli aretini ma anche dei turisti che hanno capito che in questa città c'è un'esposizione d'eccezione di uno dei più grandi, forse il più grande senza togliere ad altri, scultori contemporanei viventi. E questo inquadrato all'interno della Fortezza ha fatto veramente strike, per cui abbiamo azzeccato l'autore, abbiamo azzeccato la location, i curatori hanno fatto veramente un grandissimo lavoro e spero che si vada avanti così fino a ottobre compreso. Ed ha un successo ormai conclamato ad un altro dalla difficile attuazione. Per i 600 anni dalla nascita di Piero della Francesca, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso di promuovere la costituzione di un comitato di onore con i comuni di Arezzo, Montevarchi e Sansepolcro, finalizzato al sostegno e all'organizzazione di eventi e iniziative celebrative del grande pittore. Per quanto riguarda Arezzo, si tratta di un convegno d'ottobre legato al nome di Piero della Francesca, unico evento in città per l'importante anniversario. Ma diciamo che non si è ottenuto quello che sia il Vescovo che io, che il Vicepresidente della Regione ci aspettavamo e cioè che ci fosse data la possibilità di avere l'anno 2016 gratuitamente per i turisti e per gli aretini per la visita alla Cappella Bacci. L'anno non è ancora finito, vi posso annunciare che proprio ieri ho sentito sia il Vescovo che la Lucia De Robertis e abbiamo deciso, su mia idea e comunque loro hanno concordato con gioia, di scrivere una lettera perché noi tutto sommato questa richiesta l'abbiamo fatta per il tramite dei mezzi di comunicazione, direttamente alle persone. Però a sto punto scriviamo, mettiamo nero su bianco che le tre autorità religiosa, civile, comunale e anche regionale al suo massimo grado chiedono fermamente che in quest'anno si dia corso per quello che residua a un accesso gratuito alla Cappella Bacci. Vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa, anche perché riteniamo che con questo assist Arezzo possa veramente decollare.